Termina 1-1 all'Arena del Mare la sfida tra Lecce e Samp e alla fine della fiera ci è andata veramente molto bene Andiamo a vedere il perché, analisi Sampdoria-Lecce, un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano Come al solito prima di iniziare, pollicioni su, iscrivetevi al canale Corner-Sampdoriano su Instagram Vi ringraziamo per i 7000, detto questo, partiamo Penso sarà un'analisi alla fine piuttosto breve rispetto alle altre perché di cosa dire non ne ho tante Oltre a essere deluso per l'atteggiamento specialmente nel primo tempo Ma anche nel secondo tempo abbiamo visto una squadra veramente molto in difficoltà E quasi come se avesse perso completamente tutta la fiducia e il fattore psicologico di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane Il Lecce è una squadra che doveva assolutamente dare un segnale Veniva anzi da otto partite senza vittoria Quindi era una partita molto sentita anche quella di ieri dai tifosi L'abbiamo visto anche nel post partita con Baschirotto che prende i compagni e va sotto la curva nord A spiegare le sue ragioni ai tifosi del Lecce che hanno fischiato Cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra ma magari poi ne parleremo anche in live mercoledì sera Però davvero era una partita che secondo me abbiamo anche un pochino sottovalutato Il Lecce ha tanta qualità davanti con Sisse Hulman di Francesco è entrato Colombo grazie a Dio gli ultimi minuti Ma ha fatto vedere qualcosa di veramente importante C'erano i giocatori che comunque a noi di solito hanno fastidio Quelli che si inseriscono bene, abbastanza veloci C'era Banda che all'andata poi ci ha anche fatto il gol del 2-0 Quindi assolutamente era una partita da non prendere sotto gamba La Samp ha preso questa partita sotto gamba e secondo me è proprio Abbiamo continuato la prestazione degli ultimi 5-10 minuti con la Cremonese Proprio a pezzi psicologicamente Una squadra che è scesa in campo tenendo molto il pallone Si parla di quasi un 60% di processo palla Ma si torna sempre al solito discorso A cosa serve il 60% di processo palla Conta come sfrutti questo possesso Conta come verticalizzi Alla fine è un processo palla sterile Lento, prevedibile Come parliamo da settimane Quindi così non andiamo assolutamente nella seconda parte C'è andata bene Molto molto bene Soprattutto perché Lecce ha sbagliato tantissimi gol Nel primo tempo ha fatto 20 tiri Diverse occasioni Bravissimo Ravaglia Uno dei migliori in campo C'è tenuto a galla Dal punto di vista della coordinazione No Però l'importante è fare le parate e chiudere lo specchio Lui l'ha fatto molto bene Specialmente nell'ultima azione del primo tempo Con Zanoni che perde palla al limite dell'area Riparte molto bene in velocità in Lecce E poi Ravaglia Fa questa bellissima Non è una parata però chiude molto bene lo specchio a gallo E quindi gli impedisce di segnare Quindi tanti meriti ieri a Ravaglia La Samp malissimo Malissimo per i motivi che abbiamo visto Per anche la disposizione secondo me ieri Non è un caso che Stankovic aveva cambiato Praticamente Tutti quelli che poteva Quattro cambi al 45esimo vuol dire che hai letto male la partita Di solito Deky le legge bene Non l'ha fatto stavolta Non diamo tutte le colpe a Deky Ha delle responsabilità Non fraintendesimi Però se ci siamo ripresi anche ieri con l'1-1 Qualche merito ce l'ha anche lui Ha sempre tenuto bene o male compatto il gruppo E da quando c'è lui non abbiamo fatto più figure di merda Scusate il termine Quindi io critico Deky dal punto di vista tattico Ma dal punto di vista del morale Dal punto di vista mentale Non mi sento di giudicarlo Bravissimo che se Entra bene Entra molto male Sabiri Che Entra, fa fallo Tira due punizioni alle stelle No Sabiri bocciatissimo anche ieri E poi Come detto Hai cambiato praticamente Tantissimi giocatori Qui Sans Avrei voluto vederlo dall'inizio Contando che Diuricic è un comodino E Deky Io ti chiedo un favore Non mettiamo Diuricic è sabato Perché Già adesso sei con un piede in B Se perdi sabato Sei in B punto Punto Se perdi sabato sei in B Perché lo spezia andrebbe a più 13 Ciao Già adesso potresti essere a più 7 A meno 7 Scusate Se avessi Vinto Con la Cremonese Se dovessi vincere sabato Saresti a meno 4 Invece ti ritrovi ancora a meno 7 Se dovessi vincere sabato È già Un discorso praticamente chiuso Però Cerchiamo quantomeno Di giocarci al viso aperto Quindi Diuricic Lasciamoli in macchina Perché Diuricic Ieri Ha fatto pena Con la Cremonese Ha fatto pena Nelle ultime 5 partite Negli ultimi 2 mesi Sta facendo pena Dal ritiro in Turchia Penso Quindi Cerchiamo di tenerlo Lontano dal campo Solo questo Andate a vedere Nei singoli Come al solito Male Nguintic Che nel primo gol Ha tante responsabilità Non solo Infatti poi è stato tolto E Il primo gol Che si prende È un qualcosa Che neanche Nei campionati Dove gioco io Perché Il centrale Se esce Deve O avere la certezza Di prendere il pallone O che ci sia qualcuno Dietro E Soprattutto È un lavoro Che puoi fare Solitamente Con una difesa 4 Come abbiamo detto ieri Su Rock in Gold Ma Quello che succede ieri Ai due centrali Di cui Messi anche malissimo Nguintic Che era il centrale Esce E Leris non ripiega I centrocampisti Erano a pacculo Quindi Rincon e Winks Non ripiegano Buco E poi La frittata è fatta 1-0 Non esiste Poi Zanoli Malissimo Anche ieri Lui Abbiamo visto Comunque In quello che non è Il suo ruolo Quindi spero di rivederlo Sabato Come Quinto di centrocampo Largo O come Esterno del centrocampo A4 Quindi Calma Zanoli Non critichiamolo Perché Se siamo qui Ad oggi Anche Tanti veriti Sono suoi Poi Di cosa vogliamo parlare Di Amione È sempre il solito Cinghiale Ma anche lui Ieri delle responsabilità Winks E Rincon Mi aspettavo Qualcosina in più Ma Winks Ieri Qualcosina Ha fatto vedere Augello Mi sta piacendo Ultimamente Quindi Non mi sento Di criticarlo Bravissimo A tenere quella Cazzo di maglia Bravissimo Poi dal punto di vista Difensivo Limitato Lo sappiamo tutti Leris malissimo 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 Proprio La confusione in persona Così come Lammers Così come Gabbiadini Sempre Marcati Non in zona luce Coperti Dai difensori Per giocare contro La Sampdoria Basta mettersi Sulla linea di passaggio E Sei a posto Siamo veramente Penso alla squadra Più prevedibile Del campionato E Non lo scopriamo oggi Detto questo Signori Ripartiamo dalle cose Che abbiamo visto di positivo Quindi la reazione Che bene o male c'è stata Cerchiamo di mettere in campo Uno squadro con Quisans E magari senza Lammers Io ora Non credo che Quagliarella Non possa fare 20 minuti O quantomeno Mi metti Quagliarella De chi? Facciamo così Io Fossi te Domenica metto 3-4 Sabato metto 3-4-1-2 Metto Quisans Dietro a Quagliarella Gabbiedini Fammi questo favore Oese Fammi questo favore Voglio vedere come va Perché Quagliarella Io non ci credo Che non mi faccia ancora 40 minuti Voglio ancora vederlo Perché È una roba che Secondo me non esiste Per vedere poi Lammers Cioè Mettimi Quagliarella A sto punto Comunque Vedremo Ripartiamo da Lavaglia Ripartiamo quindi Dalla bellissima azione Che ci ha portato Al gol del 1-1 Questa squadra Ha bisogno Di continuità Ha bisogno di certezze Quindi cerchiamo Di rimanere uniti Da Mattia è tutto Da Cornel è tutto Sempre Forza Stampa